Allora, questo set è stato stupendo perché c'era un'armonia che non è così scontata sui set. Michela è una persona meravigliosa, ci siamo conosciuti durante il mio primo provino per questo film e fin da subito mi ha messo subito a mio agio. Io l'ho amata veramente fin da subito, anzi avevo voglia di conoscerla e di lavorare con lei già da un po' di mesi perché avevo visto anche i suoi film precedenti e quindi sì, insomma, è stato stupendo. Ma allora, fin da subito lui si è comportato subito da papà. Abbiamo subito avuto questo feeling, questo rapporto molto intenso, fin da veramente dal primo giorno. Poi sul set ovviamente c'era un clima, voglio dire, scherzavamo di continuo, anzi Michela, la regista, ogni tanto doveva allontanarci perché, non lo so, ridevamo veramente dal primo secondo di set all'ultimo. Per cui anche adesso comunque, anche dopo il set ci sentiamo e quindi, insomma, è un legame molto sincero, molto bello. Allora, è un divario che c'è ovviamente, nel senso che comunque il film racconta una situazione che esiste perché comunque ci sono tanti pregiudizi, tanti stereotipi del mondo, insomma, dei social, ma in generale si creano dei pregiudizi quando non si conosce a fondo l'argomento. Per cui, insomma, il film, io credo che bisogna, dato che c'è tanta disinformazione sull'argomento dei social, ma come potrebbe essere anche su un altro argomento, bisogna prima conoscere e capire appunto questo mondo, questo lavoro diverso e poi a quel punto allora esprimere un proprio parere. Io sono molto aperta, nel senso che ovviamente non utilizzo i social come un influencer, perché non sono molto brava ad usare i social, però ovviamente non li giudico, anzi, mi divertono, sono un passatempo, sì. Allora, ho iniziato con il teatro, quindi ovviamente a quell'età si è piccoli, non sapevo ancora che poi sarebbe diventata una vera e propria passione grande. Per cui ho iniziato semplicemente per gioco, poi piano piano, piano piano, insomma, si è creata veramente una grande passione che spero di portare avanti, insomma, per tanto tempo ancora. Ma miti cinematografici mi piace tanto Margot Robbie, tanto, tanto, tanto. Mi ispiro un pochino a lei e la, sì, la ammiro molto. Poi, non so, italiani, Luca Marinelli, proprio idolo di sempre, sì, insomma. Ma un regista non ci ho mai pensato, però mi piace molto il genere thriller, quindi, non so, magari se capiterà un film che non so, è l'America. Io a te sogno l'America tantissimo, vorrei studiare lì, quindi vediamo. Un titolo che mi è rimasto nel cuore? Stembe me. Sono molto legata a quel film. E poi, da lì, cioè, nel senso, ho preso tante cose da quel film, da, sì, insomma, mi piacciono poi questi film con questi legami forti, per cui sì. Sono ottimista, ma perché la speranza è l'ultima a morire. Io spero, con tutto il cuore, che si possa tornare alla normalità, ovviamente, e si possa tornare al cinema, perché sono follemente innamorata della sala, e, per cui, speriamo, insomma, veramente, perché io non credo assolutamente che il cinema sia morto, o, insomma, sia piano piano, insomma, io veramente credo che la sala sia speciale, per cui spero, insomma, possa tornare tutto normale. Ma, credo, come un po' tutti, nel senso, sto frequentando anche l'ultimo anno di scuola, quindi, comunque, con la didattica a distanza, e, ovviamente, ho visto pochissimi miei amici, per fortuna, però, devo dire, sono stata fortunata, perché, comunque, ci sono stati set che mi hanno un attimo fatto respirare una boccata d'aria fresca, ecco, anche, ovviamente, con le mascherine, con tutte le normative, ovviamente, anti-Covid, però, insomma, almeno il fatto di essere, comunque, in un luogo, appunto, di lavoro con tante persone, e facendo una cosa che mi piace, almeno questo, diciamo, mi ha aiutata molto. Ma, un profumo alla vaniglia, un profumo dolce, perché è un luogo che quasi mi pulla, mi fa sentire coccolata, quindi, sì, è un profumo molto dolce, sì, alla vaniglia.